Mi ricordavo di questa vicenda dell'arrivo della nave Flora in Italia, ricordavo alcune immagini. Le immagini delle persone si buttano in acqua, la nave stracarica di persone ancorata al porto di Bari e poco altro. Quello che proprio non ricordavo è stata poi la gestione successiva di questo evento, perché queste persone sono state imprigionate in uno stadio e poi espulse in massa. Beh, mi sono fatto delle domande che all'epoca non potevo farmi. Una di queste domande è ma il paese che ha trattato così queste persone è il mio paese, è l'Italia? Io ho seguito la folla, è stato un po' anche il pensiero di andare a vedere cosa succedeva, senza poi rendersi bene conto a quello che si andava incontro. Tu hai deciso di metterti in gioco in prima persona e di raccontare la tua storia, un pezzetto della tua storia, perché hai accettato? Penso che si racconta una storia di una nazione, di un popolo e delle persone soprattutto, delle persone che hanno un vissuto, che hanno delle tradizioni, delle idee, dei pensieri e non soltanto dei numeri. Tutta la gente da lì andava verso il porto che partiva e siamo decisi andiamo a vedere, andiamo a vedere. I miei genitori non sapevano niente. Siamo entrati e in dieci minuti eravamo in diecimila. Un po' anche di non sentirsi la pecona nera del gruppo che torna indietro, un po' anche la curiosità di vedere tutto ciò che vedevamo fino a quel momento, grazie al piccolo schermo era l'unico modo di avere l'unica porta, diciamo, tra virgolette aperta con il mondo esterno, di vedere cosa succedeva e di toccare con la mano questo tipo di realtà che non avevamo, immaginavamo soltanto. Mio marito mi chiede, dice, ce la fai a salire con la corda? Sì, io dicevo solo sì e abbiamo fatto questa scalata con la corda. L'ho fatta. I testimoni che sono presenti nel film li ho scelti, non tanto per la loro storia personale, quanto per la loro capacità di raccontarla questa storia. Io volevo che loro in qualche modo mettessero in modo un meccanismo quasi di flusso di coscienza, no? E questa cosa mi ha regalato una serie di emozioni incredibili, perché quando Clady nel film dice quella sete comincia a sentirla anche adesso, perché sulla nave loro non potevano bere, e tu come spettatore la senti anche tu questa sete. Quando Eva dice, io avevo sonno, non riuscivo a tenere gli occhi aperti, tu con lei hai sonno e quindi tu sei su quella nave. Poi c'è stato un momento di rivolta, diciamo. Una frase è divisa in tante piccole frasi. E praticamente tu inizi la frase e lo finisce l'ultimo dei testimoni, che è praticamente lo stesso racconto, lo stesso pensiero. Scappare era una parola grande, perché comunque era pieno di polizia, di carabinieri. I nostri documentari cominciano ad essere apprezzati molto anche, non solo in Italia, ma fuori dall'Italia, perché sanno narrare il presente, così come a volte il cinema di finzione non è in grado di fare. Quando fai ce qui viene, stai le 사람들이 da questa età le persone, non ci devono farma. Grazie a tutti.